Non sarà una gara, ma un galà, dove non conta vincere, ma conta esprimersi in assoluta libertà. La quarta dicesima edizione dell'Oscar Total Look, presentata questa mattina presso la sede dell'omonima Accademia Andriese di Estetica e Acconciatura, si presenta come un'edizione diversa dalle precedenti, dove moda, arte e bellezza faranno da padrone. Il gran galà, che si terrà il 5 maggio presso il Centro Fioristico Esipuglia di Corato, rappresenta l'evento conclusivo di un percorso formativo che darà la possibilità agli allievi dell'Accademia di concorrere con i propri lavori. È tutto fatto per mandare, è volutamente fatto per mandare lo sbaraglio ai nostri ragazzi, nel senso di fargli provare l'emozione della passerella, del palco, e quindi dare loro modo per sfogare tutta la loro fantasia in questa oretta, in queste due ore di spettacolo. La serata si presenta come uno show, gli allievi si confronteranno nelle categorie quali make-up artistico-decorativo, acconciatura sposa sera, body decoration, acconciatura fantasia e ricostruzione unghie. Ci sono le solite quattro categorie, quindi body decoration, make-up face, acconciatura artistica, acconciatura da sera, e non hanno dei limiti, quindi vedremo tutto quello che loro hanno in mente o quello che la moda in questo momento ci offre a 360 gradi. Ci sono all'interno dell'Oscar anche ragazzi del primo anno che hanno iniziato quindi da pochissimi mesi, ecco perché parliamo di sbaraglio, ma lo facciamo volutamente proprio perché sappiamo delle qualità che i ragazzi riescono ad apprendere anche in pochi mesi di scuola, quindi lo facciamo in maniera coscienziosa. Quindi i ragazzi hanno già parecchia praticità per potersi poi confrontare in questa, che è davvero una serata che serve a loro anche per avere forza, diciamo per poter andare avanti, per essere concentrati e sicuri del cammino che stanno intraprendendo. A giudicare i lavori una giuria composta da esperti del settore, ma anche giornalisti, imprenditori e artisti locali. La serata sarà arricchita anche da performance di danza e di teatro e vedrà l'elezione di Miss Total Look.